Riguarda i nostri politici, cioè se lei vede nei politici italiani che sono alcuni leader molto giovani dei comportamenti adolescenziali o regressivi Ora sto pensando ai giovani nostri, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Luigi Di Maio sono relativamente giovani come leader politici Sono adolescenti cresciuti o lei vede... Io avevo proposto il termine adultescenti Sono adultescenti Cioè sono adulti in termini cronologici, però hanno degli aspetti da adolescenti e direi che uno degli aspetti dell'adolescenza è che durante l'adolescenza uno è molto preso da se stesso dal senso grandioso di sé e non è detto che sia in grado di riconoscere il punto di vista degli altri di avere anche una responsabilità sociale E mi pare molto calzante con questa sua analisi con le persone di cui abbiamo parlato prima Grazie 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 Grazie